Ciao! Se stai leggendo questo scritto, significa che è troppo tardi e io non sono più qui. Ho una storia per te. C'era una volta, ovunque in nessun posto, una fragile e graziosa bimba. Diciamo capelli color del grano e occhi blu come il mare? Chioma rossa? Sguardo di bosco? Ricci debano? Beh, non è davvero importante. La favola poi, di solito, segue uno schema ben definito, difficoltà su difficoltà che sembrano insormontabili, tant'è che la nostra eroina, ormai cresciuta, non può più far altro che accettare il suo destino, che potrebbe implicare finire vittima di un intantesimo, dormire per cento anni, essere rinchiusa in una torre altissima munita di ponte levatoio e drago in giardino. Non si sa bene se per difenderla o controllarla. E chissà perché l'unica azione che la protagonista può compiere è sempre aspettare. Che qualcuno spezzi il sortilegio o la liberi dal drago. Ovviamente mentre pettina una lunghissima chioma, che il prode userà come corda, chissà che cosa ci hanno trovato di romantico eroico i fratelli Andersen nel dover tenere in ordine metri e metri di capelli. Che sia stato inverno, solo perché qualcuno te li strattoni. E mentre attende, continuerà a essere succube di una linea di pensiero che la vuole debole e sottomessa, per amore o per riconoscenza. Per paura. Paura di restare sola, di essere giudicata, di sentirsi diversa. Penso che ogni donna nel corso di quella favola, che dovrebbe essere la sua vita, ci abbia provato. Ho almeno creduto al vero amore, al principe azzurro sul cavallo bianco, al vissero per sempre felici e contenti. Ma so anche che spesso tutto ciò in cui si era sperato svanisce come una bolla di sapone. E allora inizia la caccia agli sbagli commessi, si ripercorrono conversazioni vecchie di anni. Si mette su una bella facciata di indifferenza, quando dentro tutto sta andando a pezzi. Perché è facile darsi la colpa di tutto. Pensare di non essere abbastanza, di non poter meritare niente, nonostante tutto l'impegno profuso nella relazione, a prescindere dalla sua natura. Non riuscire a dormire, ma non sapere come arrivare a fine giornata, in attesa che qualcuno miracolosamente intervenga. Di sentirsi osservati e spiati, dall'ombra, da creature che esistono solo nella nostra mente, pronte di laniarci. Ed è proprio lì che si annida l'errore. Certo, un po' di sana autocritica e revisione fa sempre bene. Prendere a testata il muro per autopunirsi di tutto, anche no. Per quanto sia contrario allo schema delle fiabe, l'eroina, dopo aver tanto atteso, si rende conto che il muro che la circonda e contro cui continua a sbattere, la torre in cui è rinchiusa e il drago feroce, non sono altro che la prigione che si è costruita da sola. E nessuno può smanterlarla se non chi c'è dentro. Ciò che c'è fuori può fare paura, ma i mostri che ci sono dentro non sono certo più amichevoli. Un passo alla volta, la mia protagonista scenderà le scale e si avvierà verso il giardino, dove scoprirà che il drago non è mai esistito e il ponte elevatoio si abbasserà per farla uscire, se solo lo desidera. Dopo tanto tempo immersa in un'aria viziata, il vento sarà dolce sul viso mentre respira pieni polmoni e capisce che se non inizia a salvarsi da sola, nessuno potrà mai venirle in aiuto. Ecco allora che l'eterna attesa può terminare. Ed eccoci alla fine mio caro cavaliere. Non sono più qui perché dopo tanto girare in tondo per la mia stanza, potendo solo guardare dalla finestra, ho capito che la vita è là fuori. Non ho bisogno di nessuno che mi salvi da un mostro a tre teste, che in realtà era un cucciolone morbido e affettuoso una volta che l'ho guardato per davvero, e a cui donare il mio cuore e la mia eterna devozione per il suo coraggio. Ma sono sempre pronta a incontrare nuovi amici, in questo vostro mondo che spero di vedere e conoscere il più possibile. Non so dove andrò, cosa farò, ma se ci incontreremo a Bangkok sulle Ande e ci riconosceremo, allora sarà più vero e più avventuroso di qualsiasi salvataggio preconfezionato. Fino ad allora, arrivederci. E non ora.